Il nostro capitano con il numero dieci, Ciccio! Prienza! Ciccio! Prienza! Ciccio! Prienza! Ciccio! Prienza! Ciccio! Prienza! Auguri Ciccio, segna. Parte il sinistro di Prienza, rotonda zero, Bari uno, il primo gol con la maglia del Bari. Ciccio, ti auguriamo di continuare a giocare con il Bari. E di arrivare in Serie A. Auguri Ciccio, da Bari, tanti auguri per te. Cosa gli auguri? Il meglio, che diventa l'allenatore del Bari. Tanti auguri Prienza, a te e tutta la squadra. Auguri Ciccio! Cosa gli auguri? Che segna qualche altro gol e di pensi a giocare. Auguri Ciccio, portaci in Serie A. Auguri Ciccio, portaci in Serie A. Tanti auguri Ciccio. Auguri campione, portaci in Serie A. E auguri Ciccio, sei un grande. Auguri, auguri e porta sto Bari in Serie A di nuovo. Auguri Bari, auguri Brienza. Auguri Ciccio! Cento di questi giorni. Auguri Ciccio, portaci in Serie A. Vai Bomber, spacca tutto. Brienza contro Giappone. Il sinistro di Brienza, rete! Bari due, Marsala uno, il secondo gol in campionato del capitano. Pablo Picasso diceva che i 40 anni sono quell'età in cui ci si sente finalmente giovani, ma è troppo tardi. Ecco, guardando giocare domenica il capitano, posso dire che Pablo Picasso si sbagliava e che ci si sente giovani anche a 40 anni. Vederlo correre per 96 minuti più dei 18 anni è stata un'emozione particolare. Quindi vive il capitano, auguri buoni 40 anni e spero che ci accompagnerà in Serie A nei prossimi anni.